dai o almeno questo non qui vai vanni vai vanni grande vanni no questo si disconnette sicuro si come la morte non so che qualcosa vi dice che si disconnette tipo sicuro sembra forte si è del certo se questo è il campione quindi si stiamo proprio fregati 2 kg forse si vediamo ma con quel personaggio io effettivamente ne ho 0 bravo tu hai messo il segnale si io l'ho messo a scuola va bene andiamo si rischia che sta cosa però andiamo ma che cosa sta cosa quale questo dove andrà la nave che nave quello ma che cazzo state a preva cazzo è cresso no aiuto sta uno qua sta uno qua aiuto uccidetelo uccidetelo sta qui dietro sta dietro di te vanni vanni mi sto dando i cazzo altri scorda bastardo faccio guarda guarda eh eliminassi valore ok lo elimino come l'hai detto bene ma non ho un'arma io questo manco non ho un'arma cura mi stupido drone aiuto un'arma un'arma ma porca grazie drone sto battendo tutti sto battendo tutti ne manca uno ma sto ammazzando tu puoi restare ho ammazzato tre persone ho ucciso il campione oh Gino c'è bisogno che mi rompi un orecchio però porca miseria si si cura 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 oh qua sta uno eh cazzo cura io voglio chi mi cura io ho fatto una scaricata ma non mi prendi a cazzo ti trimo sto curando mi prendi a cazzo però cura mi cu io ho fatto una scarica di come fa chi è che ti ha curato arriva 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 a strage sta maffa se mi fate curare che è qua eppure io dovrei cura che faccio uso il drone si dai non lo spreco sto medica oh se vuoi uso il drone eh ho sprecato 4000 medica ormai vabbè io lo devo usare lo stesso no ce l'ha questo io ti ho messo il segnalino ok abbiamo ammazzato due squadre tu quanti li ho uccisi? io nemmeno uno ah e allora li ho uccisi qua tutti e tre anche se vabbè io li ho sparati un casino ne ho fatto tipo 11 ne ho fatto tipo infatti non contano molto le uccise che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è c'è le munizioni di verde le munizioni pesanti vabbè ma dovete trovare mi ha 50 guarda è stata la nave comunque è sparita mi serve un'arma della legge che figata io ho lo scudo ausiliario viola la madonna ho trovato una cosa col pompa che tipo si ricarica e spara ah ho capito figata e ti hai premuto no se miro si si carica come si chiama qualcosa che ho cercato di capirlo perché quale è più forte poi se mi respari otturatore com'è che si chiama strozzatura di precisione quale è devastante perché se tu mi ricarica riduce la diffusione dei proiettili per le armi compatibili si si ottimo 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 cioè guarda qua che cavolo di effetto fa si 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 la so ma doveva andarcela qua non c'è più niente aspetta aspetta si si stai di tutto qua dov'è dov'è tu sei quello il cazzo di ammlock l'ammlock l'ammlock l'amm1 stanno tante munizioni perchè quello ha messo il segno alla nave cosa si fa questa nave stanno le munizioni se ci salgo sopra che fa trovi le cose trovi le cose ooooh la sgarra l'armatura bianca viola l'armatura bianca viola la sgarra l'armatura bianca viola è quello che spara a tre si quindi mi prendo questo perchè io ho quelli che spara mi stanno sul kaiser che dici rimango sulla tu dove stai? ma tu stai tipo morendosi muovego aspetta io mi devo allontanare da quello così non mi ruba la super ok mi devo tirare la super qua c'è perfora cranio ehm che sto? hai un cecchino? no ok se c'è lei ti do la cosa quella che io non c'è ma pagagli dai scendi piccola capsula vieni qua dammi qualcosa di leggendario un oh ma tua madre è una grande puttana siamo sempre qua e non troviamo un cazzo mi sembra un caricatore steso un cavo di qualcosa cioè un mirino si non c'ho niente di niente ma un mirino ho trovato noo che schifo questo che ti ha fregato? noo non questo praticamente prima avevo avevo ucciso uno e lo scudo ausiliaro leggendario ridava la rinascita lui l'aveva già usato e gli aveva già dato la rinascita una volta ora che gli ha già dato la rinascita una volta io non la posso più usare ma non è che l'hai usato tu prima non è che l'hai usato tu prima no no perché io non sono andato a terra perché chi è che ti ha curato no tu sei andato a terra prima io ti ho visto no io non sono andato a terra mi ha curato quello là mi ha curato quello là appunto sicuro che ti ha curato lui e non è che magari ti stai dicendo da su sì perché ho visto che mi ha tirato una coltellata nelle palle non ho capito vabbè ok cioè ma sembra proprio che dava una coltellata un po' fortissimo ho 70 squadre rimasto ah ok abbiamo detto 10 mi si può andare avanti a fare ma le comunicazioni come si fanno quale comunicazione ma se tengo premuto non mi ricordo che fa freccia sinistra che fa cambia la modalità di fuoco no tengo premuto ah guarda l'arma ah così a caso aspetta che qua stiamo a mettere singola roba è inutile che stiamo qua comunque ho detto proprio lui vuoi un mirino per il cosa almeno un mirino lo voglio no no sto a posto che mirino c'è qui no no non mi serve andiamo via di qua non serve stare qua per l'assalto intendo un mirino per l'assalto no c'è un loot no c'è un loot no c'è un loot vediamo che sto rigoro qua sta di tutto ma oh oh merda basta con sta ringgatura per foraccio c'è ok che è OP però oh mi sta troppo sulle scatole dai 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 veloce questo lo uso sul qua sul pompa non serve uno c'è questo lo metto qua ho il doppio kit finish questo il cecchino se lo vuoi cecchino? si longbow arrivo c'ho anche la cosa quella super da applicare al cecchino quello che ti da tipo la forza ah vuol 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 ma ma cristo dove cazzo siete? no ma se l'è fregato quello ma non è possibile no mi sparano pure sti pezzi di merda sparano 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 si io sto panicando che tiro pure i droni a cazzo sto panicando e tiro i droni a cazzo di cazzo no 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 aiutiamo 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 ma li tolgo 10 gol pompa qua mi sto curando non andate non andate che sembra? ma lui mi affu- ma che due palle che cazzo io best che cazzo è andato? no è finto si se è fermo vuol dire che è finto eh si però mi stava sparando prima dove cazzo è andato? cerca di andare dal mio cuore eh eh la farò ti prego sto andando vado almeno a prendere almeno così non muoio si ma qualcuno mi sparerà cioè sto andando però c'è pure se lo prendi e basta tanto non so proprio che mi spazio prendi anche il mio scudo leggendario si sto a proccare questo scuse vabbè a fare in culo vai non pensavo proprio ci fosse uno io credevo se ne fosse andato sono stata mezz'ora la su primone su primone è stata mezz'ora l'ho ucciso? mi sa che l'ho ucciso si si ottimo ottimo guarda qualcuno vuole qualcuno rianimi me per favore sette! sei! sette! sei! preso preso sei! dai ma mi avete rubato tutto in realtà mi ha preso la mia però a me se hai un caricatore stesso tu ce l'avevi un caricatore stesso? non lo so vedi questo pur che cazzo c'è oh così tu se hai il pompa il pompa hai? no non lo voglio mi andate a mettere nel loc trasmettitore certo passi 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 aspetta ma sai che mi interessa e crepa che cazzo è un botta pedali questo? ma è morto che è questo? no c'è un altro cazzo è un botta pedali questo botta pedali ero ma io mi cura questo e gli frega le cose ma ogni volta c'è un no non c'è un trasmettitore in zona sta sta no in zona no hai ragione ti prego andate a uno di qua stiamo andando vai tipo a qua oh finalmente aspetta ho trovato con sdecenti poi a questo visto che è la visto che aveva messo qua sta andando lui sta andando lui sta andando lui non ti preoccupare ma ce l'hai tu il coso? no no ce l'ho tutti e due non c'è una persona che c'è ha usato? ah perché ho visto si lo sto usando non c'è una persona che c'è non c'è una persona non c'è una persona ma perché mi fa spawnare fuori zona cristo santo? perché sta fuori zona il coso? prenditi qualcosa qua ti lascio tutto ti lascio tutto cioè mi fa spawnare fuori zona fa troppo caccare sto gioco ti sto lasciando tutto prendi tutto si 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 eh no si 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 ma non le indicare sennò quello le vede le vede comunque va bene armi dai possiamo vincere la questa si io con una pistola la vinceremo assai più che sufficiente hai trovato un'arma? si una pistola fai una cosa vai fuori lutta che cazzo è il mio lutto? qua si è andato qua questi lutto? non fai neanche sono fuori vai lutta torna e ti do io e bene vabbè no c'ho anche il mio coso ah è vero allora vai fuori lutta ma è un botto e torna dentro torna fuori torna dentro porca puttana muoviti muoviti hai preso qualcosa al mio vabbè usa il bot dai usa il bot non pensavo che ti riesco a settare curati curati per forza perché altrimenti non andiamo avanti ci sto chiudendo tutte le cose ma c'è il bot che mi serve pure a me dove stai? eh si sta col bot a posto c'è tipo un corno umbilicale questo possiamo andare anche hai colpi hai colpi della wingman? eh si ma ne eravamo pochi se ti aiutano non cazzo aspetta ho visto un ho flashato andiamo qua se troverai qualcosa per forza un nemico probabilmente dai dai segui segui noi non ti preoccupare vabbè è meglio io c'ho carabine e spitfire sono i miei due anni preferiti ma vai qui dentro qua dentro sta per forza trovi per forza qualcuno io ho quello mio c'è un pompa prendi tutto prendi tutto sta pompa fa caccare adesso meglio di niente non ho fregato come un'izia sto pezzo ah tieni prendi la granata no 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 vai 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 prendi 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 se ti servono no non mi servono eh no 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 non ne posso prendere prendi tutto prendi tutto tu ci serve un caricatore leggero o un calcio prendiamo il package vai prende il package che trovi l'armaduro sicuro vai prendere il package oh figa sì trovi sicuro l'armaduro vai 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 ti copro vai 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 prendi l'armaduro che sta sicuro prendi tutto prendi tutto Ah, questo la prendo io invece Figa, figa, figa Prendo tutto, figa Oh, chi è? Chi è? No, qua non l'ho presa io L'ho presa io, andiamo Mamma, ma tiragli un calcio Cazzo Chi è che spara, chi è che spara, chi è che spara Mi ho visto, mi ho visto Tiragli un calcio Non ti distraeremo, stanno i nemici Vabbè, maffa Dove sta? Andiamogli addosso Sì, aspetta, vai piano, gli sto tirando le granate 45 E ho finito le munizioni, idiota Via, 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 stanno usando il coso, via, via Ma porca miseria, ma quanto è lungo Sto coso di merda Tu non c'hai un coso? Ah, non è vercelo a quello Che cosa? Ha finito sta merda Aspettiamole, aspettiamole, c'è un'altra squadra Cosa? Vuoi una scuda? No, 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 l'abilità, l'abilità No, no, non serve, non c'è Io la dovrei quasi avere Dai, ti prego, mi sembrano colpi, ne ho zero E ammazziamo questo Io ho zero colpi Non li vedo, non li vedo, non li vedo Sono dietro sta Eccoli, eccoli A destra, a destra Ce l'abbiamo, ci sono due squadre, via, 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 via Pushiamo questo Una terra, una terra Via, mi do curare, mi do curare, via, 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 via Devo curare, via, via, via No, ma è un bot Ti prego, ti prego che mi devo curare Non morite, ma che non vi curo Tieni, bro, ti do il bot Tieni Ok, no, non serve il bot Abbiamo un kit felice, devo solo usarlo Qua sta qualcuno per forza Ecco, l'ho trovato No, figa L'ho ucciso a questo Da dietro Ucciso Non andate a terra Che soccano Non andate a terra Non andare là, che stanno gli altri No, vi ho detto Ma, porca Non ho colpi di un cazzo Dio bestia Mi sto ferendo, mi sto ferendo C'è un'altra squadra Quanti copi di sé, non ne ho più Ho zero colpi Non ne ho più Vabbè Push insieme a me Sì, sto pushando Dammi i tuoi colpi Dammi i tuoi colpi Dai, dai, dai Cazzo Ammazzati tutti Ammazzati tutti Via, via, via C'è un altro che spara Sei tu? No Mi devo curare, mi devo curare Oh, coprimi Mi devo curare Se mi copri Abbiamo vinto Mi sto usando il kit fenice Ho pochissime munizioni Qua deve stare uno Eccolo Spara, 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 spara Oh, campione Asgarra Da solo l'ho vinta questa Asgarra Madonna mia E ti ho detto Un altro ancora Stava lì Perché poi è venuto Uno da destra E' ucciso pure Quello Oh, 14 ucciso Ne squadra Asgarra Quanti cazzo Di danni hai fatto 2000 danni Non ti scherzo Oh, hai detto Che oggi Me la devi far vincere Cazzo Se me l'hai fatta vincere Ma tu pensi Che parliamo a Vandala Qua Anzi Questa La metto su YouTube Che parliamo a Vandala